La forza di accelerazione che colpisce alla testa l'avversario può produrre il K.O. Perché? Perché l'accelerazione che viene impressa dal colpo al cranio viene principalmente impressa alla parte ossea, mentre la parte che possiamo considerare in sospensione all'interno, cioè il cervello, subisce una forza esattamente contraria, una decelerazione, praticamente viene schiacciata contro le pareti del cranio, in parole molto povere e semplici. Ed è questo il momento in cui si ha quello che potremmo chiamare uno shock e si perde completamente la capacità di mantenersi in piedi e si cade per terra. Cioè questo il K.O. avviene per uno scuotimento cerebrale all'interno della scatola cranica perché la capacità di assorbimento di cui si è parlato quando si spiegava la differenza tra le diverse forze, proprio perché la capacità di assorbimento non è stata sufficiente ad attutire questa forza di inerzia così immediata ed esplosiva. La sindrome da secondo impatto è una encefalopatia ed è causata da un trauma che segue a un altro trauma non ancora completamente recuperato. E' importante parlare di questo perché nella stragrande maggioranza dei casi i traumi sono definiti, traumi cranici, sono definiti di primo grado, cioè sono confusione mentale che non supera i 15 minuti. Il 99%, potremmo dire il 90% dei casi è in questa categoria, quindi il 90% dei casi passa inosservato, cioè non si esegue nessun tipo di accertamento ulteriore ed è in questo caso che si potrebbe instaurare la sindrome da secondo impatto, cioè a dire se ha un primo trauma non così grave da comportare una perdita di coscienza, ad esempio il soggetto continua l'attività, continua la gara, continua il combattimento, se non ha ancora però recuperato veramente dal primo colpo ricevuto e riceve un secondo colpo. Questo è il meccanismo con il quale si instaura questa patologia, la patologia del secondo impatto. Visto che siamo sul discorso, diciamo che se i traumi sono per il 90% di primo grado, cioè con una semplice confusione mentale inferiore a 15 minuti, quelli di secondo grado sono circa il 9,5-10% e sono classificati così i traumi che comportano una confusione diciamo mentale di superiore a 15 minuti. Non sono tantissimi, è raro vederti insomma. Così come è ancora più raro vedere quello dove c'è una perdita di coscienza e sono lo 0,4% di tutti i traumi. Nella stragrande maggioranza dei casi è solo questa che arriva al medico e che arriva a fare un attacco, cioè la perdita di coscienza. Ed è per questo che molto spesso il soggetto che ha avuto un trauma, che ha avuto un K.O. limitato o comunque non ben riconosciuto può continuare a combattere. E questo sarebbe la cosa da evitare prima di tutte le altre. Riguardo ai traumi diciamo al corpo, i traumi che sono più subdoli sono quelli al fegato e soprattutto quelli alla milza. Perché? Perché nel trauma alla milza si può avere uno stravaso di sangue, cioè un ematoma in pratica, che può essere saccato, quindi non inizialmente così importante o ritenuto così importante, però è in effetti un'emorragia che può portare a delle conseguenze dispiacevoli, diciamo così. Altra patologia da trauma della milza è quella che viene chiamata spappolamento della milza. Altra patologia alla quale bisogna stare molto attenti. Morale, mai sottovalutare un trauma all'addome, al fianco, pensando che sia un dolore da nulla. È comunque sempre importante ricordarsi che sottovalutare qualcosa in quelle situazioni può essere pericoloso. Le fasi susseguenti a un trauma sono la prima, acuta, e la seconda, di riparazione o recupero. La prima parte è quella, diciamo, che avviene immediatamente ed è caratterizzata per i medici da quattro cose, che in latino si chiamano rubor, tumor, calor, dolor. Poi riconosci perché hai dolore, perché è gonfio, perché è rosso, va bene? Questa è la fase acuta, questa fase tutti la vedono. Ciò che non vedono è la seconda fase, cioè quella della risoluzione dell'infiammazione, cioè della riparazione del danno. Ed è la seconda fase quella più temibile delle due, proprio perché nella seconda fase non si ha più il dolore e il gonfiore, è minimo, diciamo, e sei più portato a credere di essere già guarito. Quindi la fase di recupero è forse più importante che quella acuta, la fase acuta del trauma. In particolare, in caso di frattura, in caso di incrinatura e non di vera e propria frattura di un osso, può succedere che nella fase di recupero, se non ben portata avanti, quindi secondo i consigli di un medico che sia, come posso dire, pratico e specialista della cosa, può succedere che questa riparazione avvenga in modo non completo e quindi si formi quello che noi medici chiamiamo pseudo-artrosi, cioè l'osso, invece di essere completamente saldato, sembra essere saldato, ma ha ancora una mobilità. Questa mobilità può trasformarsi dal punto di vista sintomatologico in un dolore, ad esempio, e niente più, in una lieve limitazione funzionale e te ne accorgi solo molto tempo dopo rispetto al trauma. E a questo punto può essere anche richiesto un intervento da parte del chirurgo, insomma, per metodo. Quindi molto importante la fase di recupero, per dare un ordine di tempo del recupero, diciamo 30 giorni, a grandi linee, poi dipenderà moltissimo dal soggetto, dal tipo di trauma, dall'osso che eventualmente si è fratturato, dal tipo di frattura, eccetera, però dobbiamo considerare a grandi linee più o meno i 30 giorni seguito a un trauma, insomma, di una certa entità. Grazie.